Nel reparto di medicina dell'ospedale Santa Croce di Fano è stato registrato un focolaio di coronavirus. I pazienti sono in buone condizioni di salute e verranno trasferiti nelle strutture no covid di Pesaro. A spiegarci la situazione e le procedure attivate è il primario Gabriele Frausini che ha lanciato anche un messaggio di speranza. Innanzitutto va detto in maniera chiara che il virus gira, il virus c'è in mezzo a noi, è molto diffuso. Fortunatamente da una parte, dalla parte del malato, sfortunatamente dalla parte della sanità, spesso questi pazienti sono asintomatici. La malattia può decorrere in maniera del tutto ininfluente così come invece la malattia può assumere degli aspetti molto più drammatici. Il problema degli asintomatici è importante perché l'asintomatico può diffondere. La differenza tra il virus dell'influenza stagionale e il covid è proprio questa, che mentre l'influenza stagionale contagia nel momento in cui il paziente è sintomatico, febbre, tossi e così via, il covid-19 va invece ad infettare anche nel periodo che può precedere l'insorgenza dei sintomi o può infettare anche se un paziente rimane per tutta la malattia asintomatico. In questo bisogna essere molto precisi. Dobbiamo abbassare questo benedetto indice RT. È un nostro dovere perché nel momento in cui noi abbassiamo questo indice RT il virus diffonde molto di meno e saremo alla fine auspicati di questa malattia. Bisogna abbassarlo tenendo in mente che noi abbiamo due doveri. Uno della tutela sanitaria, ma dobbiamo anche pensare a quella che è la problematica socio-economica. Non possiamo distinguere le due cose. Dobbiamo continuare a curare i pazienti, continuare a non far diffondere la malattia e rendere possibile quella che è la vita quotidiana di tutte le famiglie, di tutti gli operatori, tutti gli operai, tutti i professionisti. In questo devo dire che condivido questo parziale lockdown che è stato messo in atto dalle autorità regionali che mette, credo, insieme queste due esigenze in maniera molto equilibrata. I contagi però possono avvenire anche all'interno di un ospedale. Qual è il protocollo che seguite quando arrivano i pazienti nel nosocomio? C'è un protocollo molto rigido che cerca di evitare quello che purtroppo è successo qui in medicina nella giornata di ieri dell'altro ieri. Il protocollo diceva rigido perché un paziente che si presenta al pronto soccorso fa il tampone a prescindere, sia che abbia dei sintomi che possono essere riferibili al covid, sia che abbia dei sintomi del tutto diversi, una colica addominale, una colecistite, qualsiasi patologia viene tamponata. Se il tampone è negativo e non ci sono dei sintomi che possono far pensare al covid, il paziente viene ricoverato. Ma proprio per cautela, se un paziente ha un tampone negativo ma ha dei sintomi, un quadro radiologico che ci sospettisce, il paziente viene ricoverato in zona grigia, considerato come potenzialmente malato e viene sottoposto al secondo tampone. Solo dopo il secondo tampone negativo viene avviato ad un'adegenza normale. Quanti sono in questo caso i pazienti e i sanitari positivi? Nel reparto di medicina ci sono 10 pazienti positivi, ci sono due sanitari soltanto, però va detto che noi sanitari, io per primo, abbiamo una vita sociale certamente molto ridotta, andiamo a fare la spesa, andiamo alla messa, andiamo negli uffici pubblici, per cui io credo di poter dire, senza troppa paura di essere smentito, che forse l'ospedale è uno dei posti più sicuri per queste cose. Anche perché siete completamente bardati durante le ore di lavoro? Purtroppo sì, noi siamo bardati è una parola piccola, usiamo tutti i dispositivi di protezione che non sono soltanto la mascherina, ho una doppia maschera in questo momento, abbiamo dei camici di oro per lenti, abbiamo delle cuffie, abbiamo dei calzari, abbiamo i guanti, ma soprattutto dobbiamo tutelare la salute della gente attraverso tutte quelle norme normali di vita che sono quelle del lavare le mani e cercare il distanziamento. Quando è possibile dobbiamo stare lontani tra di noi. Cosa succederà nelle prossime ore? Verranno ulteriormente isolati o spostati i pazienti positivi? Fin da subito abbiamo creato una specie di bolla, cioè una zona isolata del reparto dove ci sono soltanto i positivi. Vi posso assicurare, ho appena finito la visita, che la maggior parte di questi pazienti non hanno sintomi riferibili al cobild, sono quasi tutti sfebrati, quindi è una positività cosiddetta incidentale, altrimenti fosse stato in un altro ambiente non avrebbe saputo neanche di essere positivo. Fatta la bolla, abbiamo riunito l'unità di crisi, l'ultima riunione di mezz'ora fa, nella quale abbiamo già stabilito il da fare e siamo in procinto di trasferire questi pazienti nelle strutture Covid di Pesaro. Dottore, dobbiamo ricordare che ci sono anche tanti pazienti non Covid? Assolutamente sì, questo è il nostro grande sforzo. Se da una parte ci diamo da fare con tutte le nostre forze di curare al meglio i pazienti Covid, non possiamo, e ripeto non possiamo scordarci dei pazienti non Covid. Penso ai pazienti neoplastici, penso ai pazienti cardiopatici, insufficienze renali, diabetici, dobbiamo darci da fare per mantenere aperte tutte le strutture per poter seguire questi pazienti, perché non si muore solo di Covid, si muore purtroppo anche delle altre patologie. Che cosa si auspica per il futuro? Allora, io mi auspico che arrivi alla svelta del vaccino. Appena arriva la possibilità di essere vaccinato, io lo farò immediatamente e credo che una buona campagna vaccinale sia il momento decisivo per chiudere questa brutta parentesi di questa vita, di questo mondo. Il virus si può sconfiggere, ma in attesa del vaccino dobbiamo essere molto attenti. Quelle che sono le vere armi, le armi che hanno sconfitto tutte le grandi pandemie del mondo e dalla Spagnola in poi, c'è stato il distanziamento sociale. Questo non vuol dire che noi non abbiamo armi farmacologiche per affrontare questa malattia. Ormai la conosciamo bene. La prima ondata purtroppo ci ha fatto fare esperienza, sappiamo come collocare i farmaci, sappiamo dove mettere l'eparina, sappiamo come usare il cortisone, abbiamo a disposizione un antivirale che è stato adottato dalla terapia dell'ebola che funziona e abbiamo poi il siero iperimmune. Marche Nord è stata una delle prime strutture nelle Marche a procurarsi i siero iperimmune dai propri donatori e la stiamo usando con grande soddisfazione. Abbiamo inoltre i farmaci derivati dall'artrite reumatoide che sono fondamentali quando siamo di fronte a quelle tempeste che noi chiamiamo citochiniche in cui l'organismo mette in atto delle difese immunitarie abnormi e crea i veri grandi problemi che portano spesso questi pazienti in rianimazione. Ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare, l'arcobaleno deve essere il nostro simbolo e dobbiamo però tutti darci da fare nei propri ambiti per le cose che possiamo fare per venire fuori da questa brutta storia.